SIGORNI WEAVER Io sono io, Deadpool, e ti farò una proposta che non potrai rifiutare. Aspetterò qui, ok? È una casa grande. È strano che io veda sempre solo V2. Non è che la produzione non può permettersi altri X-Men? Per questo, secondo me, Coppun è un film altamente pornografico. Chi ha invitato l'uomo di latta? Di latta? Ma letale. E il mio amico dal pene cromato ha consentito a darmi una mano. In cambio, io prenderò in considerazione l'idea di entrare nella loro X-Band. Non è X-Band. Sì, certo, certo. Oh, allora, sei riuscito a riconquistare Guitare? Ho cercato di tenerla stretta, signor Paul, ma Bandù è più abile e... più bello di me. Beh, secondo me tu sei molto carino. Topinder? Cosa è stato? Ah, quello era... Bandù nel bagagliaio? Ban chi? Il mio rivale in amore, Bandù. È legato nel bagagliaio. Ho fatto come dicevi, DP. Lo sventrerò come un pesce tandoori e lo butterò davanti alla casa di Guita. Io non gli ho mai detto di fare questo, mai e poi mai. È un errore di traduzione. Topinder, non è così che riconquisterai il cuore di Guita. Sono fiero di te. Lascia andare Bandù con grazia e gentilezza. Uccidilo. E poi riconquista Guita in modo tradizionale, con il tuo fascino maschile. Rapiscila. È super defunto. È il momento di un bel cinque? Per te, dieci. Ok, ragazzi, andiamo a fare la differenza. Tu sai come operare. Falli secchi, mio eroe! Cuciniamoci quei cazzo di chimicianga. Non capita spesso che uno ti rovini la faccia e il sistema nervoso rapisca la futura madre dei tuoi figli e sia la causa di quattro dei cinque momenti più merdosi della tua vita. Diciamo solo che si comincia a respirare aria di Natale. Grazie.